Certo che nelle periferie di Taranto ci sono tanti misteri e cose davvero strane. Mi trovo in Viale Europa, a Talzano, una strada di scorrimento importante di questa borgata e fin qui sembrerebbe tutto normale. A un certo punto, guardate qui, non sono gli scavi di Pompei, non sono gli scavi di Talzano, ma si tratta di un'area privata in cui l'area fu oltre 15 anni fa oggetto di scavo per realizzare evidentemente delle costruzioni, delle strutture edilizie. Guardate, a un certo punto da 15 anni, dico 15 anni, è tutto fermo. In pratica uno cammina, vede la strada e poi guardate qui, guardate un po' un fossato. Vedete, un fossato. Ripeto, sembrerebbero scavi archeologici. Qualcosa di incredibile. Uno si domanda, ma un'amministrazione comunale non interloquisce con il privato? Se è necessario, se ci sono gli estremi, non lo so, può darsi anche che non ci siano, si compiono anche gli atti legali perché l'area possa avere un suo ripristino. Un'amministrazione comunale deve pretendere che se non si edifica più, ammesso che ci siano le concessioni edilizie, beh, lo dico terra a terra, volgarmente, questo fossato venga colmato, no? Non è normale, non è normale, non è, non sono i resti di un anfiteatro romano che stanno qui, sono, è un'area privata in cui non si è più costruito. E da 15 anni or sono è rimasto tutto fermo perché in questa città, torno a ripeterlo, le amministrazioni finora, di tutti i colori, hanno dormito da 15 anni a questa parte, ma anche prima. Quindi l'amministrazione Melucci dorme e ormai è un riposo eterno, ma le precedenti amministrazioni hanno dormito, hanno chiuso gli occhi, boh, però guardate, se viene il turista, il turista si domanda ma questi cosa sono? Scavi? Reperti archeologici? Cosa c'era qui in questo fossato? Sono i resti di un anfiteatro? No, 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 lo ribadiamo. È un'area privata in cui si è scavato, non si è più andati avanti nei lavori, al di là delle ragioni che ci possono essere, in ogni caso, signori cari, viva Dio, dopo 15 anni non possiamo restare così. Al di là della volontà dei privati, al di là di eventuali contenziosi situazioni giudiziarie, ma da 15 anni, da 15 anni oltretutto ci sono anche delle ragioni igienico-sanitarie perché qui si annidano insetti, topi e quant'altro, perché sembra che stiamo così in un anfratto di una foresta, di un bosco, non so di che cosa. È una situazione davvero paradossale. Quindi l'amministrazione comunale, il pubblico deve incominciare a parlare con il privato e deve pretendere dal privato perché qui è un'area che insiste, un'area privata che insiste, che si interfaccia, che è di fronte a un'area pubblica e non è possibile, signori cari, questo scempio.